Ciao a tutti, al volo perché il tempo è tiranno ed è denaro. Alcune cose che vi voglio far vedere del cruscotto. Sul cruscotto spesso ci sono dei livelli di eccesso. Vedete che DAX oggi ha un eccesso del 170% in negativo, molto più eccessivo del FIB, pur se il FIB ha una performance decisamente più brutta di quella del DAX. pur se la debolezza del DAX è minore della debolezza di Eurostox che pure ha un eccesso inferiore. Significa cioè di quanto il mercato sta andando vicino a determinati supporti. Tanto infatti che maggiore è l'eccesso, che io cerco di misurare in botte di 50 e 50, quindi meno 50, meno 100, meno 150, meno 200, ma già a 150 si comincia a pensare che il mercato di norma è in una fase di eccesso. Tanto infatti che vedete che il DAX ha sentito comunque una certa area dalla quale poi ha fatto un rimbalzo. E questo rimbalzo possa lasciare il tempo che trova un altro tipo di discorso, ma ve lo voglio far vedere alla luce anche di quello che gli eccessi possono essere da misurare su un grafico di più lungo termine. E vi prendo quindi un grafico market profile, che è come dire un giornaliero, dove vedete che il DAX attualmente in area 9840 sta transitando su dei livelli importanti. Apertura 9816 del giorno 13, chiusura 9822, apertura 822 rispettivamente del giorno 17 e del giorno 18, chiusura del giorno 19 giornata a forte range con rifiuto di prezzo e dove il prezzo più scambiato è 9806. Se io mettessi qui dentro 9806 nell'eccesso, vediamo che cosa succede. Ipotizziamo che il mercato mi faccia un minimo a 9806, ipotizziamo che il mercato, chiudiamo la posta che non ce ne frega assolutamente niente, mi vada a fare un minimo a 9806. Vedete che l'eccesso va quasi a 200%, facciamo 9800. Ecco, 9800 sarebbe il 200% di eccesso, cioè 4 volte un eccesso di volatilità. Pertanto, nel caso il mercato ritorni sopra, qual è la resistenza? 9.850, vediamo se... No. 9.860? No. 9.861, dai, grosso modo. Cosa c'è a 9.861? Potrebbe essere questo un livello dove far partire le ricoperture. mi interessa vedere se questo strumento può servirmi a vedere e a capire, scusate il bisticcio di parole ma cerchiamo di parlare veloci, dove può essere un livello che il mercato sente come il livello sul quale possono essere fatte delle cacce agli stop dei lunghisti ritardatari o dei rialzisti o degli shortisti ritardatari. 9.860 mi va a configurarsi come questa zona di minimi dell'R12,25. È vero che c'è una zona di forti volumi e non ce l'andiamo a nascondere. e la ritroviamo qua. 9.860 qui sotto. Come ci ritroviamo? Un prezzo fondamentale è 9.880. Pertanto, rimettiamo sul DAX apposto il 9.880 e cerchiamo di capire se questo grafico mi dice o meno delle cose. Cosa trovo a 9.880? Vedete che trovo questa fascia di volumi forti. Ma questa fascia di volumi forti che cosa corrisponde? Corrisponde a po' al di sopra, 9.900, questo forte minimo del MACD. 1, 2, 3. Ma diciamo che abbiamo 4 minimi forti. Rock in riaccumulazione, vediamo se è buona, perché dobbiamo vedere sui volumi che cosa succede. Sui volumi ancora non c'è riaccumulazione, quindi questi rimbalzi vanno presi nella misura in cui sul sentiment non c'è forte riaccumulazione, c'è solo la rottura di una zona di eccesso. ma sul sentiment, attenzione, dobbiamo andare a fare un lavoro fatto qua. e poi fatto qua, e poi fatto qua, dopodiché allora a questo punto prendo questa, me la metto qui sotto, la proietto qua sopra, e qua mi ci vado a mettere un allarme. Questo è tutto il sentiment fra ieri e oggi, mi ci vado a fare un figonacci, siamo al 28%. Vedete la velocità con cui comprare al time, potete tranquillamente fare le cose. A questo punto, ritorniamo al cruscotto, e andiamo a monitorare quello che può accadere da altre parti, perché un altro grosso indagato è il nostro mercato. Ma sul nostro mercato, che situazione abbiamo? Abbiamo l'eccesso, il supporto di 17.210, c'era il mega supporto che è stato rotto oggi, la mega resistenza è 17.730, esattamente il massimo di oggi, meno 3,49%. La debolezza è minore della volatilità, ma ancora non ci sono le configurazioni, siamo proprio, è esatto, siamo proprio arrivati adesso a vedere cosa succede, manca ancora un poco. Andiamo a dire, 1,28, 1,54, c'è su 125, quindi per arrivare a un 150 dove devo portare il mercato, proviamo a vedere se sarebbe 17.000, proviamo a vedere se sarebbe 17.050, no, 17.020, 17.020, tutto in diretta, esatto, a 17.030, abbiamo un 150 di eccesso circa, 0.35, e quindi prima di 0.35 io non comprerei, ma cosa trovo a 0.35? Trovo esattamente i minimi assoluti del 17 di maggio, graficamente parlando, è un quadro compatibile con ciò che stiamo vedendo adesso? 1,2,3,4, andiamo così, 1,2,3,4, 1,2,3,4, vedete che ho preso questa, no? è compatibile 16.980 come target? Attenzione sì, anzi 16.860, ho fatto un conto che pensavo fosse prima, 16.860, bene, 16.860 sarebbe un eccesso fondamentale, andiamo a mettere 16.860 qui sotto, andiamo a mettere 16.860 qui sotto, e verrebbe un 200%, quindi primo livello di intervento 17.030, se no bisogna attendere per un calcio di rigore più carino, 16.860, tutte queste cosettine io mi auguro che possano servire di attenzione, perché sono tutte cose sulle quali si cerca di andare un po' a spiegare il funzionamento di questa macchinetta, sul DAX siamo short 9.938, trailing stop 9.868, quindi finché non si torna sopra 9.868, che casualmente la zona dove sta passando è anche un super trend, per il momento questi sono rimbalzini belli, interessanti, ma non cambia assolutamente nulla, perché c'è sempre pressione, e lo vediamo anche dal book, dove comunque vedete che ci sono ancora diversi livelli da sistemare, cosa troverei a 9.860? che contratti troverei? Andiamo ad estendere il book il più possibile, portiamolo giù, vedete che si può prendere il book e estenderlo, e vi dà tutte le posizioni della giornata, 9.860 si troveranno a 350, 365, 370, 470 contratti, 516 contratti, 8.60, 8.70, è quindi un grosso livello di resistenza, che il mercato ci sta, che se carica questa divergenza come si deve, sempre che gli americani vada, e gli americani in questo momento stanno provando a fare qualche cosa, questo è il Dow Jones, ma questo è il Nasdaq, è fragilino ancora, acerbo, contratto nuovo, questo è l'SP, fragilino acerbo, può darsi che vadano a tirare delle cose, sicuramente una cosa che oggi sale molto, togliamo questo, via anche il DAX, cos'è che sale molto di brutto? Il Bund, 0.66% di forza, di potenza, la volatilità è molto bassa, l'eccesso, il Bund ha fatto 164,98 come massimo, ed è poco di sopra il suo eccesso, dal punto di vista un rientro di normalità del Bund, quale potrebbe essere tornare a 0? 164, ad esempio, facciamo di qua, 164,79, proviamo a vedere come reagirebbe il sistema, ma 174, 64,79, tornerebbe praticamente a 0, supporto quindi del Bund, 164, c'è una prova, 75, 164,75, c'è questa zona di questi corpi, e la zona del pivot 1, di R1 superato, è il supporto, abbiamo quindi un sistema matematico, che incrociando il grafico, ci dà delle conferme, piuttosto che delle non conferme, e queste sono cose estremamente importanti, alla luce soprattutto dell'esplosione di volumi del Bund, che quindi potrebbe essere ritracciata qua sotto, nel caso il Bund, avesse un'esplosione di volumi, poi non confermata nel mercato, allora ci sarebbero dei cambiamenti, attenzione, nel frattempo usciamo dal Bund, questa è cronaca in diretta, con tutti i limiti anche, di fare cronaca in diretta, vedete che il sistema ha già consigliato, di cominciare a chiudere, alzato da un lato il trailing stop, l'ha portato più su, ma l'ha portato perché intanto, vi ha chiuso una posizione per metà, e quindi ha messo in modo più conservativo, quasi stop appare, la chiusa della posizione, peraltro certi target erano già stati raggiunti, quindi a 8,56 il sistema avrebbe potuto anche chiuderti, vedete quando il sistema ti raggiunge un target, e poi ti va a riprendere, forza, ti raggiunge il target, e ti chiude intanto una posizione, keep in touch, stay with us, faremo degli aggiornamenti ancora su questo tipo di sistemino, ma giusto per farvi vedere delle cose, a questo punto anche uno sguardo al mercato italiano, dove vedete che Unicredito, comunque pesantemente venduto a meno 5,27, il sistema dice di cominciare a chiudere le posizioni, uscire dallo short di Unicredito, chiudere metà di short di intesa, rimanere short di telecom e di fiat, chiudere Banco Popolare al 50%, tornato sotto quota 3, chiudere al 50% anche la Milano, chiudere MPS e generali, siamo ancora su livelli molto bassi, vedete che siamo piuttosto giù, ma comunque il mercato può anche essere gestito con delle chiusure anticipate di operazioni, in questo caso in bellissima tendenza, di short, proprio quando cambiano determinati tipi di parametri, ci vuole una piattaforma grafica molto bella, molto forte, che dia un flusso dati interessante, e che consenta anche di poter fare, come vediamo per esempio qua sul DAX, dei lavori, dove a questo punto, un primo target di sentiment è già stato raggiunto, un altro target sarà a breve qua sopra, 1,46 di sentiment, vedete il mercato piano piano procede, e la cosa carina è che voi ci potete poi mettere gli allarmi, tirate dentro, condizione big, voglio che mi avverta quando il big tocca meno 1,47, scriviamo 1,47, maggiore o uguale, e qui mi va a piazzare l'allarme, ecco la bellezza di poter lavorare con piattaforme performanti è proprio questa, che vi dà la possibilità di mettere allarmi velocemente sugli indicatori, e soprattutto di fare un lavoro di analisi grafica molto molto svelto, molto molto svelto, dove potete prendere per esempio tutte queste robe qua, capito? Quindi ci potete fare per esempio delle trendline, lavorare quindi su che cosa? Su triangoli rotti e poi recuperati, dove a questo punto, i triangoli ve li gestite, mettendovi dei livelli, 1, duplica freccia, 2, duplica freccia, 3, duplica freccia, 4, duplica freccia, tasto destro, configura, estensione, tac, spero vi sia stato utile, buona giornata a tutti voi! Grazie!